Vi presento la cucina della nonna, vecchia scuola, eccola qua, bellissima, nella sua semplicità e nella sua funzionalità. Wow! Bastano due pezzi di legno e si ottengono tantissime cose, ma proprio tante. Tutto bolle in questa piastra incandescente, quindi si può cucinare benissimo qualunque cosa. Abbiamo anche a disposizione un bel forno, comodo, si possono fare anche le pizze, vi assicuro che la pizza viene buonissima. E poi il pentolone della nonna pieno di acqua, acqua bollente, sempre a disposizione, saranno 20 litri, cioè in qualunque momento uno può prelevare l'acqua calda che desidera. Il tutto con quattro pezzi di legno, veramente uno spettacolo. La cucina della nonna, vecchia scuola. Wow!